La scoperta delle antiche ricette piemontesi si unisce a immagini ricche di memoria e di cibo nella serie Gustose Tradizioni, filmati dedicati alla gastronomia storica piemontese, interamente realizzati con materiale video d'archivio e disponibili sulla social tv del Consiglio regionale grazie a un accordo con l'Istituto Luce. Ogni filmato, della durata di circa un minuto e mezzo, specifica ingredienti e modalità di preparazione del piatto, oltre a illustrare le origini della ricetta o della materia prima, ed è corredato da suggestive immagini d'epoca.